Allora, buongiorno, sai dove siamo? A casa mia. Esatto, c'è una nuova casa di Rinegan. Non ve la facciamo ancora vedere se c'entra tutto. Questa quindi è la stanza che tu tenai con la studio. Senti come rimbomba, rimbomba tantissimo, rimbombissima. Oggi siamo qui per montare finalmente la sua scrivania, che non è la cassettiera. Volevo regalare la cassettiera da gaming. No, quella la porto più avanti. Quella la porto più avanti. Quindi adesso dobbiamo montare la scrivania, qua, lì. Non vedete voi me qui dietro, dopo ve lo faccio vedere. Qui dobbiamo montarla e metterla lì. E mettere il computer. Sì. Che hai portato qua, vero? Sì. Bravo. La missione è indicata una cosa molto importante, te la dirò dopo. Cosa hai dimenticato? Dobbiamo mettere un tovagliolo per terra, perché così evitiamo di rovinare il perché. Il parquet. Questa qui non è stata fatta davanti. No. Vuoi andare a chiamare un ingegnere? Ah, che pazzo. Così? Ah, mi sono preso il dito. Sì, scemo. Giriamo prima il pianeta. Facciamo prima. Ma poi, come si avvita che non ha le viti? Da cazzo ho messo le viti adesso? Ti ho chiesto? Ah, le viti? Sì, io ho le viti. È nella scatola del router. Cioè, nel router ha messo le viti. Dopo non le trova. Grazie che non le trovi. No, no, sapevo che è un'introscantola. Ah, ok. Sai dove viene? Dove devo avvitarla? Sì, ma ne vedete che devo avvitarla. Grazie. Spostati un attimo. Dammi qua, che avvito tutto, avvito tutto, avvito. Allora, sono le 16.09. Abbiamo appena avvitato la parte sotto della scrivania. Ah, il progetto è questo. La scrivania va inserita qui dentro, giusto? Sì. Lì dentro. Perfetto. Confermo. Sì, confermo. Allora, dopo circa 10 minuti, se non riuscite a capire come va messo questo... Sì. Perfetto. Cosa c'è che ti turba? Eh, forse aveva sbagliato di mettere il pezzo sotto. Quindi questo qui deve essere messo qui. Ma sei sicuro? Ma secondo me è più giusto metterlo qua. 50-50. Quindi adesso svita tutto, svita tutto. Adesso va messo da quell'altra parte. Se dopo viene fuori che va messo dall'altra parte ancora... Svita, svita. Questa dove va? Questo andrà messo qui. Prima dobbiamo mettergli questo, pensato a questo. Cos'altro è più comodo da mettere. Con quello per su. Ecco, ecco, sta accanciando il pezzo. Eh, stai qua. Guarda, l'ha messo lì. Sì, sì, no. Contrata che fosse quello questo. Brava, sì, per le buone maniere si risolvono sempre tutto. Ricorda, prendete le viti dalla scatola e quella adesso. La scatola del root. Domino, in realtà ci sono tre le viti. Eccola lì. Sinceramente non pensavo che montavano questi vigni a così così complicati. Questi? Sì, quelli lì. L'hanno messo in burro qui. La scrivania da gaming. Che non è la scrivania da gaming. Sì, perché dopo daremo un tocco magico per la renderata gaming. Voi che vado a prenderti l'abitatore? Va bene, vai a prendermi l'abitatore. Punta, taglia. Non riesci a fare la mano? Sì, riesci. Puoi fare la mano? Sì, posso fare la mano. Perfetto. Buuuh, sette perle. Ai, peri, peri, peri. È arrivato il mio commento. Questo dobbiamo infilarlo. Mi sembra semplice, no? Così, ma mi sono tritto così. Ah, perché poi va al tavolo. Esatto, quindi mi raccomando. Ma scusa, il tavolo non è quello? Non ti do, fammi male. Non ti do, fammi male. Sottatura perfetta. Mamma, ma siamo bravissimi. Cosa fai? Eh, devo mettermi ad abitare. Ah, giusto. Opla. Opla. Hai trovo. Ma a me piace vedere le linee che ha capito. Allora, aspetta. Vada, ragioniere. Quando chiedi a un tuo amico di aiutarti a montare una schiena mia, e speri che ti aiuti. Io sto aiutando. Non che devi rimanere la mia canna. Io sto aiutando. Così, non la giriamo e siamo a posto. Perfetto. Vedete che adesso lo studio con la schiena è già molto meglio. Però fai vedere quel problema. Oh, ma scusate, lo metto. Quell'armadio lì, quando si apre, sbatta sulla schiena mia. Però basta mettere uno di quei cosi tipi questi. Questi. E non mando il mio. Perché cosa? Allora, qui adesso quello che ci resta da fare è inserire... Tutto presto. Oltre al microfono lì, così ci sentite meglio. Il computer. Non c'è altro da montare? No, no. Gli schermi, le casse, tutto quanto qua pronta. Oh, che bello. Adesso quindi montiamo tutto? Sei, sei, mettiamo tutto qua. Perfetto. Ha comprato una striscia LED. Da mettere dietro la scrivania, quindi magari la fai correre da quella parte lì, così. Non so, se fanno pure dietro la scrivania o slungo tutto il coso così. Eh, lì non sarebbe male, perché dà tipo un'atmosfera tutta attorno alla scrivania. Prova a metterla lì sul muro, dai proviamo. Prova a metterla lì e vediamo come viene. Hai Beyblade. Ah, Beyblade. Cos'è questo? Devi fare un po' giù, vabbè. Puoi stare fermo? Ah, ok. Vada a ragionere, vada. Te l'ho fatta, mi sono giustata. Stai facendo una prova. Ma adesso dobbiamo provare le modalità della luce o solo vedere come viene? Prova a diminuire l'intensità. No, così è spento. Eh, ma sta facendo lui tipo un po'. Che è? Perché fa da solo? Non lo so. E quando è il momento? Tu. Aia. Luce! Dove l'ho tagliata la roba? Si prega di tagliare la striscia LED attraverso le linee segnate. Fatto. Dai, dobbiamo provarli adesso, eh? Sì, sì. Voglio provarli. Chiudo la finestra. È buio? Aspetta che mi trovo il telecomando. Ok. Che figo. Vedi che adesso che non si vedono i LED, proprio che danno... Bellissimo così. Bellissimo. Qua ci sarà il computer, non so se mi vedete. No, è tutto buio. Vorrei provarlo col computer effettivamente, però tu ti sei dimenticato la ciabatta per sollevare tutto. Sì, sì, mi sono dimenticato la ciabatta, ma... È molto bello, molto bello. Bello, 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 bello. Fighissimo. No, beh, così è bellissimo. Ok, che a te non si vede, si vede pochissimo adesso con la videocamera, ovviamente. Però così veramente è bello. Vedete che abbiamo messo i LED? Cerco di imparare a vedere. Sono esattamente lì dietro. Sono sotto l'armadio qua, in questo lato. È bellissimo vedere il quadrato proprio così. Ma no, ma ci sta, ci sta. Dopo pensavo di mettere un'altra paia di roba. Oh, ti giuro, visto così, sembri una sorta di... Tipo un film con dei laser, tipo 007. Adesso montiamo il computer, velocemente, e vediamo se troviamo qualche spina per collegare anche il computer. Se è buio, col computer acceso, che figata è? Andiamo. Bellissima scelta. Come dispiace che non possiamo... pregare gli schermi perché si è dimenticato la ciabatta. Senti, non si possono mica fare professionali qua. Siamo un TFG on demand, mica roba professionali qua. È appoggiato su 08. Però no, è figo, è figo, scusami. Immaginate che ho gli schermi accesi. Per capo, non hai metto la multiple? È una fiat multiple. Però è una sidearm. Ti vede pochissimo. Ma una scrivania che gira. Rinegando la scrivania che gira. Salve. Salve, non un paper. Cosa hai detto Donald? Donald Draper, non sai chi è? Chi è? Vai a vedere chi è Donald Draper. Ah, quello di Madman. Quello di Madman, bravo. Questo? Esatto, quello è Donald Draper. Sei tu? Accendi la luce. Eh, l'accendella qua, guarda. Bravo, bravo, accendi la luce. Ecco, rifletto. Adesso ho fatto rifletti. Ah, filettici. Oh, ecco. Molto carina. No, ma è facile. Potremmo fare un tutorial per come creare le scrivanie per fare streaming. Quindi, io direi che ci possiamo salutare al prossimo video e non so cosa faremo. Salute. Oh, non vi abbiamo visti. Oh, non vi abbiamo visti. Ci piacciono i cliché. Vi anticipo che forse ho trovato una connessione a internet che potrebbe risolvere i nostri problemi di internet, tra l'altro. Anche i miei. Anche i tuoi, certo. Però non vi anticipo niente perché prima voglio provare, poi farò fare un video. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ciao a tutti.